Signor Tyrell, io ho portato un amico. Salve, mi sorprende che tu non sia venuto prima. Salve, non è una cosa facile incontrare il proprio artefice. Ah, e che può fare per te? Può l'artefice ritornare su ciò che ha fatto. Perché? Ti piacerebbe essere modificato? Resta qui. Avevo in mente qualcosa di un po' più radicale. Quale... Quale sarebbe il tuo problema? La morte. La morte. Beh, questo temo che sia un po' fuori della mia giurisdizione. Tu... Io voglio più vita, padre. Abbiamo i nostri limiti. Abbiamo i nostri limiti.